Puoi mandarli via. Dovete riceverli, Jin. Ora siete il signore del clan Sakai. Sì. Non siete solo, Jin. Vostro padre è nel vento che vi sostiene. Vostra madre, negli uccelli, sugli alberi. È mio zio. Ve lo dirà lui, alla pira di vostro padre. Grazie, io dico. Il clan Adachi sarà sempre disponibile se avrai bisogno di una guida. Tuo padre è sempre stato il baluardo del popolo. Un vero samurai. Grazie, io dico. Io non l'ho salvato. Sono stato un codardo. Jin, tu sei un samurai. È morto per colpa mia. Tuo padre è caduto in battaglia salvando il suo unico figlio. La sua ricompensa è una morte da guerriero. Ora tu porterei avanti la sua eredità. Lo spirito di tuo padre risiede in questa lama. Lui è sempre con te. Domani verrai nella mia fortezza come mio pupillo. Ma oggi devi dire addio a tuo padre. come posso salvarla? 自 frei. Voi! Voi nasce? Voi effetto! Voi si vbeanne la sua mogà per le sua mogÕia Sì, sì, sì. Forza, dai! Yuna! Yuna! Jena! Cos'è successo? Ho trovato Lord Shimura. Io potevo salvarlo. Ma il Khan era lì. Ho deluso mio zio. Almeno sei tutto intero. Ho giurato di proteggere l'isola con la vita. Ma ora i mongoli ci hanno rubato il paese. Ucciso i samurai. Non ricordavi cosa vuol dire affrontare chi è più forte di te? Sentirsi deboli. Quando ci troviamo faccia a faccia con la morte. Dobbiamo fare di tutto per sopravvivere. Il Khan si aspetta una guerra contro i samurai. Anticiperà ogni nostra mossa. Se non troviamo come coglierlo di sorpresa. Così salveremo Lord Shimura. E il nostro paese. Io ti aiuterò. Mongoli. Gli sgarri del campo. Sono troppi! Nasconditi nell'erba! Ti staranno dando la cazzo. Gli cani hanno spaventato i cavalli. Sono destrieri dei samurai. Sanno tornare dai padroni. Cavallo! Bella mossa. I mongoli saranno sulle tue tracce. Dividiamoci. Li distrarrò mentre fuggi via. Non me ne vado finché non avremo salvato mio fratello. Devo prima trovare altri alleati. Abili guerrieri. Come Sensei Ishikawa. L'Edi Masako Adachi. Il loro aiuto. Anche mio fratello può aiutarti. Una volta in salvo avrai al servizio il miglior fabbro dell'isola. Creerà qualsiasi strumento utile a salvare tuo zio. Per scalare le mura del castello? Tu lo sogni, Taka lo realizza. Dove lo tengono? L'hanno preso vicino a Keji. Va lì e chiedi in giro. Ti raggiungo presto. Taka non durerà a lungo in mano ai mongoli. Yuna. Salveremo tuo fratello. E tuo zio. E tuo zio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.